Del Vecchio, oggi lascia ufficialmente il comune di Pescara, la giunta Alessandrini, un po' di commozione e dobbio in questi casi. Lei maschera bene però tutto questo? Beh, non lo so, però insomma c'è stata commozione nell'ultima giunta e anche nell'incontro quotidiano che ho con i cittadini. Però diciamo che oggi presentiamo il lavoro fatto in questi 33 mesi e a dir la verità non mi aspettavo. Che la struttura che ho avuto il piacere e l'onore di dirigere e rappresentare sul piano politico abbia svolto tanto, ma tanto lavoro nell'interesse della comunità. Abbiamo fatto tanto veramente. Quali sono, chiedo scusa, Del Vecchio, le opere comunque che l'hanno resa più orgogliosa in questi 33 mesi? Possiamo parlare delle opere strategiche come il Ponte Nuovo, oppure il discorso sull'area di risulta, oppure l'aver avuto il finanziamento della riqualificazione delle periferie. Ciò che mi ha veramente reso orgoglioso del lavoro fatto è stata la rappresentanza, il lavoro che ho fatto quotidianamente in giro per la città, incontrando i cittadini e soprattutto nei momenti di difficoltà con la protezione civile, quando abbiamo avuto problemi soprattutto di allagamento. Lì ho incontrato la città vera, quella che soffre, quella che ha bisogno di interventi e verso la quale non abbiamo dato promesse o fatto promesse vane. Ci siamo impegnati a risolvere le questioni, alcune le abbiamo già fatte, altro c'è ancora da fare e dal mio nuovo ruolo e dalla Regione Abruzzo spero di poter dare un contributo ancora più importante per il risolvimento di queste problematiche.